Avrebbe ricevuto da un trust situato nell'Ikestein fondi per 4,6 milioni di euro annotando gli importi come donazioni ed evitando così di sottoporli alla tassazione italiana. Una fondazione con sede nel nord della provincia di Varese è finita così nel mirino della Guardia di Finanza che le ha contestato un consistente quanto mancato versamento all'erario. A seguito delle indagini il soggetto economico impegnato nell'ambito sociale inquadrato nel terzo settore ha usufruito del ravvedimento speciale versando al fisco 2 milioni di euro comprensivi di imposte, sanzioni e interessi.